Insignorezze! Perfidia! Avete un amico da salvare. Voi ci portate il tesoro e noi vi diamo l'antidoto. Quale tesoro? Quello a cui vi condurrà questa mappa. Uno, due, tre! Chi viene per dare aiuto ne riceverà in cambio. Chi viene per prendere ne prenderà. È stato rubato uno degli oggetti magici. Se il traditore dovesse impossessarsi anche degli altri tre, sarebbe la fine. Qui c'è un passaggio segreto. Come fa a fare pipì con quei pantaloni? Dobbiamo attraversare il giardino e raggiungere il laboratorio di volo. Kira? Ray? Dove siamo finiti? Il vecchio saggio con i quattro oggetti magici. La gemma, la clessidra, la moneta e l'anello. Sofì, tu sei una fata! Il tempo sta per scadere. Dobbiamo salvare Pongo. È questo che conta davvero. Quanto vi fa bene? Me contro te! Il film! Il mistero della scuola incantata. È un altro trucco delle fate! È una stanza magica! Per aiutare lui contro il potere arcano, io ti chiedo libro di darmi una mano! Perché se... Mi sa che ho sbagliato qualche parola! Dal 18 agosto al cinema!